eccoci qua e lui è topogigio topogigio topolino come lo vogliamo chiamare insomma ci dobbiamo ancora pensare lui anche lui è un vecchietto di circa 15 anni non sappiamo ancora nulla di lui dopo magari chiediamo all'aslo al camille è minuscolo non pesa nemmeno secondo me sarà un 6-7 kg non è più è buono buono piccolino va largo il fiocco guarda piccolo piccolo ciao nonno come sei bellino che minuscolo c'ho la lingua da fuori guarda non c'avrà i dentini povero bimbo però è infatti in goia ah perciò è in goia in goia però e questo c'ha il prolasso della terza palpa questo è nero e quello è chiaro prendilo un po' in braccio ci sciogliamo è il maschietto si sta raccogliando nel posto è pesantissimo per lui mamma mia sono le dita queste si sta raccogliando nel posto vieni all'ombra zia claudia è più piccolo di posto si aspetta aspetta è pesantissimo togliamogliela un po' guarda qua com'è pesante per lui piccolo c'è un po' di sole si c'è un po' di sole mamma più là un po' di sole devi fare proprio sulle lamiere eh ok piccolo uh platano piccolino un vecchio sole uno giù tipo tamburino ma come sei caro tu un piccolo nonno il piccolo nonno un nonno lui un nonno senza i denti vieni vieni com'è bello un bel mo' platano lui quello che ce la faccia a metà c'era la metà la metà è come pera e l'altra è bianca si 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 ciao zia ciao